Allora eccoci qui con lo squadrone del San Lorenzo vittorioso 3 a 2 Una bellissima partita contro Giacchè L'ha inquadrato Ferretti Un prestabile portiere Allora ragazzi parla Reale che è stato l'autore del gol finale Cosa ci potete dire di questa partita? È uno gol di Reale Giacchè era comunque una bella squadra E San Lorenzo ha ben tre punti qui Grazie alle mie punte Inquadriamola Inquadriamola Come fai? Ragazzi però Giacchè insomma era una bella prestazione qui Giacchè erano belli topi Abbiamo scavalcato Abbiamo fatto una prova di maturità Quindi San Lorenzo due vittorie di fine Sembra terzo posto Quindi obbligio dichiarato ragazzi Europa è una generale Europa è una generale Va bene ragazzi Grazie